Capitolo 6 Dalla padella alla brace Bilbo era scappato agli orchi, ma non sapeva dove si trovava. Aveva perso il cappuccio, il mantello, il cibo, il pony, i suoi bottoni e i suoi amici. Continuò a girovagare finché il sole cominciò a declinare ad ovest, dietro le montagne. La loro ombra cadeva di bieco sul sentiero, ed egli dapprima si guardò indietro, poi guardò avanti e vide di fronte a sé solo crinali e pendii che digradavano verso i bassi piani e pianure appena visibili qua e là tra gli alberi. «Gran cielo!» esclamò. «Si direbbe che sia arrivato dall'altra parte delle montagne nebbiose?» «Al confine di una terra remota! Vorrei solo sapere dove sono andati a finire tutti quei nani!» «E Gandalf!» «Spero proprio che non siano ancora là dentro, in mezzo agli orchi!» Girovagò ancora fuori della piccola valle elevata, la oltrepassò e scese giù per la china, dall'altra parte. Per tutto il tempo un pensiero molto sgradevole cresceva in lui. Si domandava se, ora che aveva l'anello magico, non dovesse tornare indietro in quelle orribili gallerie a cercare i suoi amici. Aveva deciso che questo era il suo dovere, che doveva tornare indietro. Sentendosi assai infelice, quando udì alcune voci, si fermò ad ascoltare e non sembravano voci di orchi. Perciò avanzò strisciando con prudenza. Si trovava su un sentiero sassoso che scendeva serpeggiante con una parete rocciosa sul lato sinistro. Sull'altro lato il terreno andava digradando e sotto il livello del sentiero si aprivano dei canaloni sulle cui pareti crescevano arbusti e cespugli. In fondo a uno di quei canaloni, sotto i cespugli, c'era gente che parlava. Strisciò ancora più vicino e improvvisamente, spiando tra due grossi massi, vide una testa con un cappuccio rosso. Era Balin. Avrebbe voluto battere le mani e gridare alla gioia, ma non lo fece. Aveva ancora l'anello al dito. Per paura di incontrare qualcosa di inaspettato e spiacevole e vide Balin guardare proprio verso di lui senza accorgersi della sua presenza. Farò una sorpresa a tutti, pensò mentre si calava lentamente tra i cespugli sull'orlo del canalone. Gandalf stava litigando con i nani. Discutevano di quello che era successo nelle gallerie e si domandavano e dibattevano su cosa dovessero fare. I nani brontolavano e Gandalf diceva che non potevano certo continuare il viaggio abbandonando il signor Baggins alle mani degli orchi, senza cercare nemmeno di scoprire se fosse vivo o morto e senza cercare di salvarlo. Dopotutto è un mio amico, disse lo stregone, e come persona non è niente male, mi sento responsabile verso di lui. Ah, come vorrei che non l'aveste perso. I nani volevano sapere perché l'avessero portato con loro, perché non fosse rimasto con i suoi amici e non li avesse seguiti e perché lo stregone non avesse scelto qualcuno di più appropriato. Finora ci ha dato più fastidi che altro, disse uno. Beh, se adesso dobbiamo anche tornare indietro a cercarlo in quelle abominevoli gallerie, «Accidenti a lui, dico io!» Gandalf rispose arrabbiato. «L'ho portato io! E io non porto cose che sono inutili. O mi aiutate a cercarlo, o me ne vado e vi lascio qui a sbrogliarvela da soli, come meglio potete. Se riusciamo a trovarlo, me ne ringrazierete prima che tutto sia finito. Che ti è venuto in mente di lasciarlo cadere e di andartene, Dory?» «Anche tu l'avresti lasciato cadere», disse Dory. «Se all'improvviso un orco ti avesse afferrato le gambe da dietro, nel buio ti avesse fatto lo sgambetto e preso a pugni sulla schiena.» «Ma allora perché non l'hai ripreso?» «Gran cielo! E me lo domandi?» «Gli orchi che combattevano e mordevano al buio e tutti che cadevano gli uni sugli altri e si pigliavano a pugni a vicenda, tu mi hai quasi staccato la testa con Glandring e Thorin tirava colpi da tutte le parti con Orcrist.» «Tutto a un tratto il tuo bastone ha emesso dei tuoi strani lampi accecanti e abbiamo visto gli orchi che tornavano indietro di corsa.» «E poi hai gridato.» «Seguitemi tutti!» «E tutti avrebbero dovuto seguirti. Pensavamo che tutti lo avessero fatto. Non c'era stato tempo per contarci, lo sai benissimo e se non dopo essere scappati alle guardie al portone fuori dell'uscita secondaria ed essere giunti qui in fretta e in furia.» «Ed eccoci qua giù, senza lo scassinatore. Ma che se ne vada in malora!» «Ed ecco lo scassinatore!» disse Bilbo scivolando giù in mezzo a loro e togliendosi l'anello. «Accidenti che salto fecero!» Poi gridarono di sorpresa e di gioia. Gandalf era sbalordito quanto gli altri, ma probabilmente più compiaciuto di tutti loro. Chiamò Balin e gli disse quello che pensava di una sentinella che lasciava venire la gente come gli pare piace. Sta di fatto che però da quel momento in poi la reputazione di Bilbo in mezzo ai nani crebbe notevolmente. Balin era il più sconcertato di tutti, ma tutti dissero che era stato proprio un bel lavoretto e in verità Bilbo ne era così compiaciuto che sghignazzò tra sé e sé e non disse niente dell'anello. E quando gli domandarono come avesse fatto disse «Ma sono semplicemente strisciato qui facendo molta attenzione e in silenzio». «Beh, finora non era mai successo che nemmeno un topo mi passasse sotto il naso facendo attenzione e in silenzio senza che io lo vedessi», disse Balin. «E ti faccio tanto di cappello» e così fece. «Balin al vostro servizio», disse. «Beggins servo vostro», disse Bilbo. Poi vollero sapere tutto sulle sue avventure dopo che l'avevano perso ed egli si sedette e raccontò tutto tranne del fatto di aver trovato l'anello. Si interessarono particolarmente alla gara di indovinelli e mostrarono il più apprezzabile raccapriccio alla sua descrizione di Gollum. E poi non mi venne in mente nessun'altra domanda con lui che mi stava seduto vicino», concluse Bilbo. «Allora dissi «Che cosa ho in tasca?» E lui non fu capace di indovinare neanche dando tre risposte. Così gli dissi «E la tua promessa?» «Mostrami la via d'uscita!» Ma lui venne verso di me per uccidermi e io corsi via e caddi e lui mi mancò al buio. Poi lo seguì poiché lo sentivo parlare tra sessi e era proprio convinto che io conoscessi la via d'uscita e così vi si dirigeva. Poi si mise a sedere all'ingresso e io non mi potevo avvicinare così spiccai un salto sopra di lui e scappai correndo giù verso il portone. «E le guardie?» Essi domandarono. «Non c'erano guardie?» «Oh sì, tantissime ma le ho schivate. Sono rimasto incastrato nella porta che era appena socchiusa e ho perso un sacco di bottoni» disse tristemente guardando i suoi vestiti laceri. «Ma ce l'ho fatta ed eccomi qua!» I nari lo guardarono con insolito rispetto quando parlò di schivare le guardie saltare sopra Gollum e infilarsi nel barco come se non fossero cose difficili e pericolose. «Cosa vi avevo detto?» disse Gandalf ridendo. «Il signor Baggins è più in gamba di quanto si possa pensare». Mentre diceva questo lanciò a Bilbo una strana occhiataccia e l'Hobbit si domandò se lo stregone avesse intuito la parte della storia che aveva omesso dal racconto. Poi fu il suo turno di fare domande poiché se Gandalf aveva ormai spiegato tutto ai nani Bilbo non l'aveva udito. Voleva sapere come avesse fatto lo stregone a saltare fuori al momento giusto e a che punto fosse la situazione. A dire la verità lo stregone non dispiaceva per niente parlare ancora della sua bravura. Perciò disse a Bilbo che lui ed Erlond erano stati ben consapevoli della presenza di orchi malvagi in quella parte delle montagne ma un tempo il loro ingresso principale si apriva su un altro passo più facile da valicare così che spesso catturavano la gente sorpresa dalle tenebre da quelle parti. Evidentemente la gente aveva rinunciato a passare da quel lato e gli orchi dovevano aver aperto il loro nuovo ingresso in cima al passo che avevano imboccato i nani. piuttosto di recente del resto perché fino a quel momento era stato abbastanza sicuro. Devo vedere se posso trovare un gigante abbastanza a modo per bloccarlo di nuovo disse Gandalf oltre a poco le montagne non si potranno più attraversare. Appena Gandalf aveva udito l'urlo di Bilbo si era reso conto di quel che stava accadendo. Approfittando del lampo che aveva ucciso gli orchi che stavano per prenderlo si era lanciato nella fessura un istante prima che si richiudesse di scatto. Aveva seguito gli orchi e i prigionieri fino al limite della sala grande. Lì si era seduto e aveva escogitato l'incantesimo migliore che potesse fare nelle tenebre. Era proprio un affare scabroso disse. Toccata e fuga. Ovviamente Gandalf aveva fatto uno studio speciale sugli incantesimi con fuochi e luci. Nemmeno l'Hobbit aveva dimenticato i magici fuochi di artificio per la festa di mezza estate del vecchio Tuk come ricorderete. Il resto è noto a tutti noi eccetto che Gandalf sapeva tutto sulla porta secondaria come chiamavano gli orchi l'ingresso inferiore per capirci dove Bilbo aveva perso i bottoni. In realtà la cosa era nota a chiunque avesse una certa familiarità con quella parte delle montagne ma ci voleva uno stregone per non perdere la testa nelle gallerie e guidarli nella direzione giusta.